Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Grazie 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 non era nulla non 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 Signore, da dove proviene quest'acqua? Ahimè, ahimè, mezzapino cosa ho fatto! Io vedo un uomo a dire il vero, e l'ho sceso! Pietà, signore, ti imploro, perché non sono ciò che ho fatto! Gesù, molto senti parlare di te, di come i malati e i ciechi attraverso la tua pietà guaristi in questa città. Così come hai guarito me oggi, la tua volontà servirò, e con te sarò, perché so bene che entro tre giorni risorgerai! Signore, abbi pietà di me! E tu, quelli uomo, e tu! A presto! Devo salire sul palco. Oh, signore Dio! Con quale cuore hai ucciso quest'uomo che vedo morto, affeso in croce, che mai fece alcun male? Di certo egli è il figlio di Dio, che venga fatta una tomba in cui possa essere seppellito, poiché egli è il re della beatitudine. Giuseppe, sono certo che questi è il figlio di Dio onnipotente. Andate a chiedere il corpo avilato per farlo seppellire. Io vi aiuterò a deporlo, devotamente. Pilato! Ti chiedo di concedermi una grazia speciale! Di questo profeta morto qui oggi! Lasciami portar via il corpo! Giuseppe, in buona fede, tutto è pronto! Se quel centurione dice che è morto, io non te... Non salverai, Pietro. Il vino che ha bevuto era avvelenato. Come promesso a Cesare, ho fatto le cose per bene. Non sono ancora morto. Non sono qui per ucciderti. E' causa dell'ascesa al potere di qualcun altro. E' causa anche della propria distruzione. Fatelo scendere! Questo non c'era nelle prove! Trattenete le guardie! Grazie! 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 Grazie!